signori e amici sportivi ben tornati ad un nuovo episodio come vedete non sto giocando veramente ve l'avevo detto che sto mantenendo le promesse andiamo a vedere cosa ci ha date al negozio perché come vedete c'è scritto offerta speciale disponibile ora se quello a soldi o minca allora andiamo a vedere cosa richiedere in calan in calan chiedo questo allora vediamo un poco tagliate il bel minatore amici sportivi ma io direi non me ne fotte non me ne fotte niente finalmente finalmente raga finalmente oh oh sono contento allora fammi pensare adesso perché sicuramente una leggendaria la devo togliere allora minatore principessa gigante royale potrebbe essere una bella accoppiata minatore loro pure fanno il loro lavoro forse il ma e ci forse il mago però non lo so la scintilla potrebbe pure essere oh quanto è bello e doveva arrivare prima o poi il suo gioco il suo momento oh è di 3.8 però non lo so che quel mago per difendere lui preferirei mettere lei ci ci penserò allora lui mi è sicuramente parecchio utile mi sarà sicuramente parecchio utile finalmente non potete avere idea di quanto lo desiderarei quando l'ho desiderato signori adesso ci andiamo a fare pure una bella partitozza ma però prima della partitozza io vorrei fare qualche cosa qua al torneo come vedere la registrazione ok ci siamo facciamoci qualche partita al torneo signori amici e sportivi eccoci qua signori sportivi ti avevo promesso un video epico e il video epico ecco i gold fornace bomber vediamo un poco tre carte gems valchire minions non ancora non ancora se ne va del tutto il raffreddamento allora apriamo il mina tower oggi vi ho fatto vedere che ho trovato il mina tower al profilo principale la epica ci sta come il pane ci sta come il pane abbiamo una sorpresa avere noi amici oggi amici abbiamo una bella sorpresa che appena ve la farà vedere voi ammetterete comunque ho levato il drago perché non mi ci ritrovo che fai schifo a fare i mazzi brava questo è il mio mazzo questo è il mazzo di rione infatti non lo uso uso questo io vai a vedere parti 4.0 ho provato a fare questo mazzo ma lasciamo perdere perché non ho troppo di difesa a parte questi ma li lancio sempre in attacco quindi uso questo signore e signori andiamo a spacchettare il barile più importante che ci riserva con 394 ori mi deve dare tante carte 2 2 4 7 ma va incredibile quando ci si mette il diavolo non ti fa uscire un cazzo di niente incredibile quando ci si mette il diavolo quando ci si mette il diavolo potenziamo questo citrone qua veloce veloce passiamo al profilo di come si chiama ring juan signori eccoci passati al profilo mio come vedete non ho nemmeno aprito il negozio perché vi è tre secondi due secondi un secondo vi volevo fare a vedere a tutti quanti voi in diretta a diretta ve lo volevo proprio far vedere rockets ninions andiamo a spacchettare questo barile e poi andremo ad aprire il negozio il negozio vediamo un po' questo me lo chiedo pure io ma va bene solita pubblica vediamo un po' che cosa ci sta 49 minuti porco diavolo amici se mi esce il barile leggendario comincio a scascettare comincio a amici amici sportivi amici sportivi voglio tanti big likes voglio tanti big likes per questo profilo per questo profilo che questo sarà l'unico leggendario chest che apriremo ma perché non mi appa non mi appare al mio principale e fa fanco perché non mi appare al mio primo principale profilo super mannaggia il demonio aspettare ha avuto il suo perché andiamo a spacchettare questo leggendario chest in realtà qua che mi serve qua c'ho il drago c'ho la scintilla la principessa se mi esce la principessa voglio o il minatore spacco il mondo oh is it un locket un locket it's wizard un locket it's wizard oh mio gold oh my gold mamma mia quando è bello quando è bello anche a livello 1 it's wizard mamma mia signori amici aspettatori il drago non lo sto praticamente usando però adesso con questo mazzo potrei farmi mamma mia 4 leggendarie signori sportivi amici vediamo un po' allora questo mazzo è di riun e non lo tocchiamo questo è un mazzo che ho provato a fare proveremo a fare un mazzo con tutte le leggendarie vediamo vediamo un po' cosa ci riserva eccolo la mongolfiera non è da scartare anzi è da molto prendere in molta considerazione allora questo mazzo 4.4 gli al demonio no 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 ma stino e scintilla assolutamente assieme non vanno bene allora teniamo un po' mamma mia signori non me l'avrei mai aspettato che mi avrebbe uscito davvero leggendari chest signori che vi devo dire questo video è leggendario anche se non apriremo questo anche se non ci esce una minchia di niente qua ci è uscito il barile super barile ultra leggendario mice mice wizard level 1 4 leggendari a gianni morandi signori che vi devo che vi devo da di di più di così boh niente passiamo al prossimo profilo non mi ricordo più come cazzo devo collegarsi i video sto proprio fuso sto a fumare la pancia sto messo proprio malissimo sto messo malissimo amici passiamo al prossimo profilo basta amici sportivi video epico oggi come potete vedere ho trovato il mina tower dopo tanto tempo e guardate cosa è successo baule magico corona tutto tutto pronto tutto preciso questo mazzo ho provato signori mi ci trovo veramente bene forse dovrei fare qualche cambio perché non mi va di lasciare fuori la scindilla però è anche vero che costa 6 quindi non oggi niente epica niente leggendario ma va bene offerta speciale da 10 euro il baule leggendario proprio non mi vuole uscire proprio non mi vuole uscire in questo momento ho la ho 4 leggendarie qua e 4 leggendarie a gianni morandi senza aver speso 1 euro a gianni morandi lo ricordo signori sportivi andiamo a spacchettare questi barili senza dilungarci troppo in chiacchiere futili chiacchiere tutti i barili di arena leggendaria 10 giganti royali anche se non li uso più ma comunque comunque sono ottimi gli arcieri li uso si devo fare al più presto questo qua all'8 però io vorrei provare a cambiare mazzo ora in questi 3 mazzi non sto usando il il pifferaio qua questo qua però lo vorrei ricominciare ad usare perché comunque è buono come la pasta è buono come la pasta torri bombarola scheletri signori non so se un caso ieri ho aperto un paulio di questi ma ho dato le normali e questo di solito da una da una da una da bo quella oddio santo ma perché mi scordo tutte le cose io mi ha dato le comuni 10 comuni poi mi doveva dare quella gialla la epica quasi al 4 principe nero mi doveva dare quelle gialle me ne andate 2 non so perché non mi chiedete perché non mi chiedete per come dacci parecchie 2 2 11 3 ma no ma che cazzo di apertura è ma vaffanculo ma vaffanculo ma che cazzo ci faccio con sto scheletrone di merda arriverà 2000 danni al secondo ma non lo uso danni alla morte sì 9 9 9 14 15 9 50 9 57 quasi 1000 quando muore sto stronzone scusate ma sto sto mangiando va bene amici non è andata come speravamo però iscrivetevi commentate condividete lasciate un pollicione in su per questa cestatura e noi proveremo a fare altre partite per salire di coppe per metterci al sicuro da non ricalare più nella 8 proveremo a fare tante belle cose ehi signori spettatori noi ci vediamo al prossimo episodio ciao agliù